Un po' di leggerezza perché no 16 novembre e allora ci siamo con l'Almanaco e con l'oroscopo mancano 45 giorni alla fine di quest'anno. Oggi è San Gertrude, compleanni ne abbiamo due e un attore Pierluigi Corallo nato nel 1976 e nel 1981 Crisula Stafida attrice anche lei per esempio il paese dei balocchi il film. Frase di oggi è di un grande regista Mario Soldati, l'umiltà è quella virtù che quando la si ha si crede di non averla. La fortuna è pronta andiamo a seguirmi insieme i 12 segni l'oroscopo in questo 16 novembre. Ariete, se il cuore vola tutto il resto andrà benissimo, a cominciare dal lavoro. Potrete inoltre contare su una forma che non vi creerà nessun problema. La carica emotiva è alta, più delicatezza con i vostri familiari. Toro, amicizia e amore sono per voi un connubio molto importante. Tra i due settori quello che vi riserva in questa giornata maggiori stimoli sarà però il primo. La famiglia richiede la vostra presenza in serata. Gemelli, dovrete lottare con voi stessi per applicarvi in tutti quei settori in cui il dovere richiama all'ordine. Sarete infatti piuttosto svagati. Cancro, siete dotati di una buona capacità di essere severi con voi stessi ed obiettivi nel giudicarvi, per cui saprete rimediare ad un errore che compirete involontariamente quest'oggi. Più prudenza nei rapporti con gli altri. Leone, nel lavoro tutto procede secondo i ritmi della prevedibilità, il che è per voi la situazione migliore, considerando che in questo momento i vostri interessi prioritari sono tutti rivolti altrove. Bisticci con il partner, nervosismo da tenere sotto controllo. Vergine, prestate attenzione ad errori di distrazione che potreste commettere e che potrebbero venire anche tra qualche giorno clamorosamente a galla. Tenete conto dei consigli di una persona più esperta di voi. Bilancia, il desiderio di spendere qualcosa che oggi vi tenterà e vi avvincerà più del solito. Nel lavoro non andrete incontro a spiacevoli novità solo perché saprete usare una buona dose di oculatezza in ogni cosa farete. Scorpione, con la voglia di inebrianti emozioni che sentite, sarà molto difficile portare a termine gli impegni della giornata. Comunque ce la farete. Serata divertente con amici molto simpatici. Sagittario, starete molto bene con voi stessi oggi. Godetevi questa vostra armonia e lasciate galoppare la fantasia fin dove vuol raggiungere. Vecchie ferite d'amore finalmente si rimarginano. Capricorno, avete voglia di novità. Le maggiori le vivrete in campo affettivo. Il vostro partner vi porterà infatti a sentirvi nuovamente molto corteggiati, provocando nuove malizie nel vostro rapporto. Più pazienza con una persona anziana di famiglia. Acquario, se non avete le idee chiare, approfittate di questa giornata piuttosto tranquilla per mettere chiarezza dentro di voi. Non prendete decisioni affrettate. Il tempo è vostro alleato. Riflettete un attimo in più. Pesci, la carica emotiva oggi è alta e il vostro corpo segue perfettamente gli influssi della mente. Tutti intorno a voi si accorgeranno del grande carisma che possedete. Quindi successissimi personali. Amiche, amici, chiudiamo in bellezza con la frase Non sono le stelle troppo lontane, sono le scale per raggiungerle troppo corte. Buona fortuna! Grazie! Grazie!